La bellezza ci unisce. Natura, arte, scienza, cultura, creatività. Ci legano. Sono il patrimonio che condividiamo con le generazioni future. Nell'anno più difficile ci siamo sentiti soli, ma siamo sempre rimasti uniti. E ora ripartiamo da un paese che si rinnova e sorprende. Siamo digitali, competitivi, innovativi, sostenibili, inclusivi. Siamo un paese che riparte. Noi siamo l'Italia. Ripartiamo dal futuro.